Mi scusi, signor Reyes? Finito di grattare via la gomma dal lettino? Sembra tutto fuori dalla mia portata. Tu alla fine cadi sempre in piedi. Sei Jaime. Non escono molto. Jenny. Proteggela a costo della vita, ma non aprirla. Dovevi trovarci un lavoro e sei tornato con un hamburger. Non credo sia un hamburger. Non l'hai aperta. Ma che diavolo è? Come sei riuscito a farglielo fare? Credo di piacergli. Oh no! Ce l'hai in faccia! Toglimelo! Toglimelo! Jaime. Ti sei bucciuto. Ti sei bucciuto. Ti sei bucciuto. Oh mio Dio. Ti sei bucciuto. Ma che succede? Ma cosa? Nico? Ospite acquisito. Chi ha parlato? Tranquilli, andrà tutto a me! Sono nello spazio. Sistema di rientro attivato. Aspetta, spendo! Ti sei bucciuto. Ti sei bucciuto. Ti sei bucciuto. Ma che succede? Si chiama Scarabeo. È una specie di arma distruttiva. È concepito per proteggere chi lo ospita. Ti sei bucciuto. A volte fa quello che vuoi e altre volte no. Barriere. Forse ho tagliato un autobus a metà. Lo Scarabeo ha scelto te. Ma appartiene a me. L'amore che provi per la tua famiglia ti rende debole. L'universo ti ha mandato un regalo. E devi capire in che modo sfruttarlo. Ogni cosa che puoi immaginare io posso creare. Giochiamo. Ottima scelta. Adi, wanna rap. Wow! È roba da Batman. Batman è fascista. Adi, wanna rap.